Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Voglio farvi questo video rapidissimo perché sotto il video che ho fatto l'altro giorno su Cyberpunk dove con tutto l'entusiasmo del mondo vi portavo a farvi vedere quanto fosse bello camminare in una città viva è nato poi un commento di disagio assoluto gameplay che mi ha fatto riflettere perché mi ha detto bello il video come sempre però puoi fuorviare la gente io ci ho riflettuto e ho detto è vero anche a fronte dei problemi che ne sono usciti nei giorni scorsi riguardo al gioco e anche poi al vlog diciamo che ha fatto i due vlog che ha fatto Mirko di Gameplay Channel il gioco è pieno di bug sì è vero e quindi vi ho fatto vedere una città che comunque sembrava essere fighissima sembrava viva e in effetti lo sembra anche però come mi dice disagio assoluto non devo ingannare perché qualcuno potrebbe arrabbiarsi e dirmi eh va bene l'hai fatto vedere bellissimo però ci ho giocato e bagatissimo allora vi dirò brevemente che percorso io ho fatto in questo gioco l'ho giocato dopo 15 ore mi sono rotto le palle giocavo la storia giocavo un po' le secondarie mi rendevo conto che il gioco non era quello che io mi aspettavo sono andato avanti comunque a giocarlo dopo le 20 ore superate le 20-25 ore il gioco ha iniziato a piacermi tanto lo vedevo ovviamente diverso da prima ma il gioco mi piaceva perché l'ho preso esattamente per quello che è questo non è un GTA bisogna metterselo in testa è un gioco di ruolo ed è un gioco di ruolo che ci vede come chi ha giocato i giochi di ruolo da tavolo lo sa ci vede come gli unici protagonisti di una storia noi siamo gli eroi il Dungeon Master lo sa i giocatori sono i protagonisti ovvio non gli dai il potere del mondo subito però diciamo alla fine lo diventeranno insomma è tutto ruota intorno a loro noi siamo i protagonisti di questa storia intanto sto vagando un po' a caso adesso chiamerò anche la moto non ha senso per me giocare cyberpunk come si giocherebbe GTA nel senso che girare a sparare a destra la manca non ha senso in questo gioco perché noi siamo gli eroi che siamo eroi in positivo e in negativo non è importante ma noi saremo gli eroi e questo è una pecca degli sviluppatori non hanno studiato routine comportamentali eccessivamente approfondite infatti che come ho visto in una live i cittadini se voi spaventate scappano ed esponano fine questa è l'unica reazione che hanno se puntate la pistola a un tizio che è in macchina questo non come in GTA dove reagisce in mille modi diversi o tirando fuori la pistola facendo retromarcia investendovi qua non hanno la minima reazione allora quello che vi voglio dire è il gioco mi sento di consigliarlo a me sta piacendo vi voglio dire questo è l'ennesima voce fuori dal coro il gioco a me sta piacendo ma semplicemente perché lo sto giocando bene nel senso che non investo nessuno poi oddio capita magari scappo e finisce lì ma non ha senso far casino farsi inseguire dalla polizia non ha senso è un gioco di ruolo è un gioco di ruolo che vi consente di fare di seguire la storia di fare le vostre attività secondarie ma è vincolato a quello non è che dovete fare chissà quale altra cosa ovvio uscite da casa vostra vedete la gente che passa vi sentite parte di un mondo di una città che alla fine andando avanti con l'avventura facendo le varie missioni nelle varie zone della città inizierete a capire ad apprezzare riconoscere i vari luoghi e capirne percepirne anche la malvagità della città e delle corporazioni uscite di casa vedete la gente che va prende non so la metro prende le strisce pedonali va ma voi sapete che state vivendo la vostra avventura che state andando a fare una missione pericolosissima una missione suicida e anche lì ero rimasto molto deluso da quanto fosse magari basato tutto sullo sparare perché lo stealth non era incentivato era veramente giù su questa cosa ma poi mi sono reso conto che mi mancavano semplicemente le abilità il gioco mi si è aperto ho iniziato anche a capire diversi tipi di armi cioè avercene giochi che non si va a snocciolarli nel giro di 5 o 10 ore detto questo io sono a oltre 30 ore ormai e vi dico tutte le lamentele ingiocabile ridicolo non le condivido perché non le ho vissute probabilmente è il modo mio di giocare dove gioco stando sui binari quindi dovete considerare anche questa cosa che io sto giocando molto non dico sui binari che seguo la storia principale perché io di pause me ne prendo vado in giro faccio disfo e trovo tutto molto interessante a livello narrativo a livello di conoscenza a livello di simpatie verso i personaggi semplicemente è un gioco che deluderà molti che sperano di poter fare quello che suggetirà si fa tranquillamente potete fare quello che volete potete fare le missioni potete inventarvi varie cose prendendo elicotteri facendo le missioni via elicotteri anziché via macchina via auto via sottomarino addirittura ma questo non è GTA e soprattutto non è neanche Just Cause 4 o che dir si voglia nel senso che non è un gioco casinista è un gioco dove andate da punto A a punto V fate le missioni vi spostate avete i colpi di scena avete i dialoghi quindi basta il resto è la storia che vivete il personaggio che è l'eroe dell'avventura come ogni buon gioco di ruolo e che sia ingannevole magari la pubblicità che hanno fatto gli sviluppatori può essere ma ci ho messo quasi 30 ore per capirlo e a me sta piacendo devo dirvi non è un No Man's Sky dove era palese l'inculone diciamo che avevano tirato ma poi ne sono usciti dopo anni dopo cinque anni quasi ne sono usciti di Cyberpunk io leggo tanti vedo tanti che fanno i critici dicono guardate qua guardate là allora primo non sapete sviluppare un gioco quindi vi dico fate i critici ma fino a un certo punto non è che io vado a commentare adesso i piatti che fanno al ristorante perché non so cucinare ecco è per quello ma questa è una critica che vuole essere costruttiva come quella che spesso mi fate nei video voglio anche dire che il gioco è buggato buggato a merda come ho visto non lo so guardando i video degli altri sì probabilmente lo gioco in un modo io che non instiga i bug è ovvio io i dialoghi me li voglio godere tutti me li ascolto tutti soprattutto quelli della storia quelli scriptati è ovvio che come lo era oblivion skyrim fallout se iniziate a muovervi schippare fare di qui di là non combaciano più le frasi con i personaggi e salta tutto e la cosa si bagga ma è normale è normale probabilmente vi dico è fatto per non essere schippato quel dialogo cioè ovvio che se giochi a e questa è una critica che faccio così e che se giocate questo gioco per saltare i dialoghi e fare sì sì la questa la questa avete sbagliato il gioco ecco quello che voglio dire ma alla base di questo video ci sono anche le scuse che io voglio fare perché come mi diceva disagio assoluto gameplay potresti ingannare qualcuno col video sì città viva certo io scendo cammino e mi sembra di essere veramente lì poi che io faccia questo e facciano scappino o si buttino a terra va bene quei personaggi lì vedete sono desponati certo ma che senso aveva fare questo in una storia dove noi abbiamo un problema che è ben più grosso che girare a sparare in aria che senso ha in un gioco del genere andare a mettersi contro la polizia è un gioco dove vediamo il disagio vediamo le gang vediamo tutta la cura stilistica delle cose e abbiamo ben altro da fare ha ucciso un tizio l'altro non se ne è dato vabbè che è silenziato gli uccido quello davanti non se ne danno sì questo c'è questo problema c'è c'è anche giocando la difficile è ovvio non se su questo io sono pienamente d'accordo questo è un grande effetto del gioco poi all'interno delle missioni non ha non ha molto senso nel senso che alla fine voi pensate alla missione e non cercate quel realismo come in crisis 1 dove i nemici cercavano di aggirarvi su questo io sono d'accordo ne parliamo è ovvio hai fatto male sotto questo aspetto cioè non mi stanno minimamente cercando sono fermi tutti e io li uccido uno a uno e poi non ha senso quello che sto facendo all'interno però questo capita anche all'interno delle quest quello sono pienamente d'accordo l'intelligenza artificiale va rivista il resto bisognerebbe un attimino magari valutarlo in un modo un po diverso perché è un gioco che e questo anche per giustificare quello che io ho detto nell'altro video non si presta per essere giocato come un gta o un just goes basta tutto lì ecco sì poi questi glitch qui ci sono indubbiamente ecco ragazzi è un gioco che ha problemi assolutamente questo non lo nego a me sta piacendo me lo sto giocando così poi ovvio se un domani e lo sto iniziando ad accettare poi parlate vabbè con uno che che sta andando avanti a pane mai summer car quindi però ecco accettate questa mia diciamo precisazione perché il gioco me lo sto godendo poi ho anche la fortuna di avere magari una 2080 insomma avere un bel pc che mi ero fatto tra l'altro in previsione anche di questo gioco quindi soddisfatto al 100 per cento non lo sono io spero lo portino avanti spero lo migliorino probabilmente lo miglioreranno quando io il gioco l'avrò già finito però resterò in attesa di eventuali spero dlc e così via perché questa società deve andare avanti ha fatto giochi belli finora spero che questo lo rendano bello però ripeto dal mio punto di vista non ha senso migliorare quello concentrarsi sull'intelligenza artificiale assolutamente perché mi farebbe venire voglia di ricominciare il gioco non ha senso secondo me parere mio andare a potenziare delle cose che non c'entrano nulla con questa questo tipo di gioco il fatto di andare in giro a far casino non ha senso perché non penso abbiano mai detto un gioco dove potrete fare quello che volete volete uccidere i civili non ha senso siete un gioco del volo ed è uno dei pochi giochi che rispetta veramente la dicitura gioco del volo dove voi siete il protagonista nel bene o nel male non è che un cattivo gira sparando un cattivo agisce in modo diverso risponde male decide di uccidere il cattivo a sua volta decide di prendere delle decisioni sadiche all'interno di contesti un po più privati dello sparare in strada basta questi non hanno reazione no non hanno reazione questo è scriptato così fine non si può sparare ma qua mi sa che sono personaggi importanti della storia comunque ragazzi questo era blog ovviamente poi sono aperto a qualsiasi tipo di commento io non ce l'ho con chi anzi è un blog nato per scusarmi magari se ho ingannato qualcuno se ho convinto qualcuno a comprare un gioco che poi ha dovuto rendere perché non era quello che tenete ancora lo dico per l'ultima volta in considerazione nel fatto che quella città che sembrava così viva è così viva perché io ho vissuto come se fossi io davvero lì alla prossima ragazzi e ciao ciao